Musica Grande festa per il campione di moto nautico offshore e imprenditore grottamarese Marco Pennesi, che sabato scorso al Teatro delle Energie di Grottamare è stato freggiato del premio Grottamarese dell'anno 2009. Tante le persone che sono intervenute alla manifestazione istituita dall'Associazione Lido degli Aranci, dalla Confcommercio con il patrogino del Comune, che anno dopo anno si radica sempre di più nella cultura grottamarese. È una grande festa per noi questa sera, festeggiare l'elezione a Grottamarese dell'anno, edizione 11-2009 di Marco Pennesi. Fortemente voluta da tutti, all'unanimità, festeggiamo un grottamarese verace, un grottamarese doc, che meritava forse, secondo me, da diverso tempo questo premio. Ospite dello spettacolo Una Rotonda sul Mare, presentato da Stefano D'Alberto, il cantatore Povia. Ciao, sono Tony Russi, un imitatore, sono contentissimo che quest'anno abbia vinto un grande personaggio, impresa, diciamo, a di poco eccezionale. Niente, io posso fare solo gli auguri a questo personaggio. Grazie, ciao.